ciao ciao dal canale Niki e oggi siamo con la mia amica Serena che abbiamo fatto tantissimi video di gelatina contro il tibo normale e faremo la gara di questi palloncini, sono 100 e faremo la guarda cosa sono? dei minion quelli lì iniziano a pesare? si non ce lo fai? si staccano si stanno staccando io pensavo che erano scoppiati mi vietano ma che ne sono un paese ah che spaventissimo via ma faccio paura si tira la guerra si vanno non 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 Sì No, no Sì, 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 sì Ciao, ciao 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 Sì Sì! 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 Sì!